E' stata una tragedia, noi siamo stati scossi sin dal momento per questa perdita e chiaramente abbiamo sempre sottolineato che non ci poteva essere nessun tipo di responsabilità del livello politico dell'amministrazione, quindi a nostro avviso non dovevamo proprio entrare in un procedimento penale, quindi giuridicamente io oggi esprimo soddisfazione per qualcosa che per me era scontato, rimane comunque la vicinanza e la solidarietà a familiari che hanno perso tragicamente una vita così giovane sulla quale la magistratura sta continuando a fare accertamenti su eventuali altri profili, poi saranno i procedimenti o eventuali processi a definirne le singole responsabilità. Quello che vorrei aggiungere è quando accadono vicende così tragiche, così gravi e così tristi, la politica sempre dovrebbe evitare di fare strumentalizzazioni. non si fanno mai sulle persone che in modo così innocente perdono la propria vita.